La location è successiva, nuova, sono già state fatte al primo anno. Allora, stiamo arrivando di Santa Perea e la passione di Monsa. Come vedete, abbiamo anche le riprese televisive, ha un'abside frescata, una sorprende, e purtroppo molti affreschi ancora da scoprire nei paletti. E in cosa, insomma, se ci sarà tempo e soldi, toccheremmo quello che mi hanno chiesto. Abbiamo voluto rilanciare la manifestazione di casa Santa Perea al santo che è stato dietro. Abbiamo messo anche il santo a vedere lo spettacolo, così ha una visione un po' soprelevata rispetto a voi. E' un santo che è stato qui in questa frazione e lui ha preparato. Era un gran domani che si cercava l'acqua. E' appunto San Felice all'acqua, San Felice da Cantalice. Quindi viene festeggiato a Cantalice e a Monsa. Noi siamo particolarmente felici di questa collaborazione che c'è Stella con un adulto, una compagnia molto importante di cui è. Sì, ovviamente questa mattina siamo arrivati e abbiamo trasformato, è proprio una chiesa, quindi un assetto con tutte le banche. Abbiamo trasformato la location cercando da una parte di valorizzarla, quindi con le luci, abbiamo rimosso delle cose, abbiamo spostato altre, proprio per presentare e dare anche un'area idonea allo spettacolo di questo. Quindi vi lasciamo subito a Bach, suonate e danzate. Grazie. 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 Grazie.